Sono stati gli stessi medici del pronto soccorso del policlinico a richiedere l'autopsia disposta dalla procura di Palermo perché ad oggi che cosa abbia provocato la morte di Luigi Faccilongo, il giovane di 19 anni che si è sentito male mentre era con gli amici al pub venerdì scorso, non si sa ancora. Il ragazzo ha perso i sensi mentre si trovava al Ciupito, un locale di via Candelai, tra le mete più frequentate della movida palermitana. I ragazzi che erano con lui hanno subito chiamato l'ambulanza che è giunta sul posto e lo ha condotto al policlinico. Qui però il 19enne è morto, stroncato da un arresto cardiaco. Sono stati i familiari del ragazzo a presentare la denuncia e puntano il dito contro i soccorsi, soprattutto perché a bordo dell'ambulanza giunta in via Candelai non c'era un medico ma soltanto un infermiere. Una prima replica dal 118 è già arrivata, il medico viaggia in ambulanza solo se c'è un codice rosso, si legge nella nota e al momento della richiesta di soccorso la situazione descritta dagli amici non sembrava grave. Le indagini dovranno dunque chiarire non solo perché il giovane sia morto ma anche le procedure e i tempi dei soccorsi. L'autopsia che viene eseguita all'istituto di medicina legale del policlinico servirà per capire se il malore accusato dal giovane possa essere stato innescato da sostanze assunte poco prima, ad esempio un cocktail di alcol e droga o se la morte sia stata prodotta da una malformazione ma si indaga anche sulle ultime ore di vita della vittima. Luigi Faccilongo viveva a Torretta con la famiglia e frequentava l'istituto superiore Ugo Mursia di Carini, proprio quest'anno avrebbe dovuto conseguire il diploma.